e abbiamo così la seconda batteria in corse 1 Filippo Gazziero alla 2 Carlo Alberto Sartori in corse 3 Cesare Busata alla 4 Filippo De Menini alla 5 Francesco Visentini alla 6 Francesco Gallo in corse 7 Flavio Rascano alla 8 Luca Bassani in corse 7 Flavio Rascano alla 5 Francesco e abbiamo così la seconda batteria in corse 2 Francesco Gazziero alla 7 Francesco e abbiamo così la seconda batteria in corse 3 Francesco Gallo in corse 3 SanFranco Mion Bartolomeoli Soncin e Andrea Elena Lion con l'ultimo tempo due quaranta e dodici allora attenzione cento farfalla ragazzi maschi zero sei per la rinuncia alla finale di Leonardo Limido entra Niccolò Cimatti rinascita team Romagna quindi Niccolò Cimatti in finale dei cento fa ragazzi zero sei intanto Marco Secondo due venticinque e cinquantasette su Marco Tarzariol due ventisette e quarantadue in seconda posizione di